Allora, guardate quest'altra. Nonostante io abbia detto alla signora Verisasi pronta guarigione per il figlio, non potevo non dire, scusate, non potevo non dire che l'ambiente in cui vivono è in mano ai criminali. Non ripeto, non è che lo dico io, lo dice la procura di Napoli. Questa, questa che non so chi è, dice ma quali nemici? Ma santa pazienza, ma se è la signora stessa che in passato io non la seguo sempre, ma che fa capire che ha dei nemici, perché fanno delle canzoni dove si capisce, signori, che ci sono i nemici. Quest'altra poi, sempre stanna 62, Stefania queste cose non succedono solo a Napoli, ma signora io sto rispondendo al commento della signora, guardi che io scrivo articoli dove dico che succede dappertutto, ora non posso andare da un discorso all'altro. Poi mi dice, mi scusi ma chi vive come malavitosi, mi meraviglio di lei, ma guardate che questi che sono malavitosi lo dichiarano loro, quindi signor Anna, con tutta la buona volontà, vada a prendere in giro qualcun altro, perché questi vogliono o sono malavitosi o vogliono fare i malavitosi. Siccome io ho visto una volta anche un video dove la signora diceva se la guardia di finanza mi viene e gli offre un altro caffè in modo molto ironico, non c'entra nulla con la criminalità, però signori, se la guardia di finanza va a casa di questi, un motivo c'è. Poi credo che abbia precedenti penali, non lo so, senz'altro ce l'ha un'altra persona che mi ha fatto rimuovere un commento. Ora, signori, non possiamo parlare di tutta la malavita. Adesso il discorso è su questa signora e il povero bambino, che ripeto, non credo che un bambino di 12 anni decide di andare a cortellare un altro, né questi vi potranno mai dire c'è una faida, c'è una guerra tra bande. Perciò, signora, queste domande che lei fa a me, questi commenti che lei fa a me, che io nel 2014 ho chiesto la scorta per la corruzione dei colletti bianchi, mi faccia un piacere, si astenga, si astenga.